Musica Hi people of YouTube Welcome back to a new episode of Scarlet Nexus A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati le scorse puntate con la nuova fase d'attesa, ovvero la seconda Ho appena visto che là sopra c'è una bicicletta Ma più che altro stavo notando che nello spazio adibito a ogni nostro compagno Ci sono gli oggetti che gli regaliamo Qua ci sono gli occhiali che abbiamo dato a lui E là sotto c'è la cassetta degli attrezzi Ergo lui quella cassetta degli attrezzi la usa per modificare la sua bicicletta Grosso grande com'è vederlo su quella biciclettina, su quella graziella Io proprio non ce lo vedo Comunque abbiamo concluso questa fase d'attesa Direi che è il momento di proseguire Sì, grazie mamma Ai, va tutto bene in realtà Grazie Oh, fa il gentile per il modo in che riesce Beh in realtà ha fatto una cosa gentile dai Cioè si è sforzato di fare un po' meno lo stronzetto Destinato a spostarsi al risveglio Per tutto il tempo che serve Fai pure Quindi qualcosa non quadra in quello che abbiamo fatto, vero? No, non c'è un oggetto Oh Oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Brutto colpo questo eh Brutto colpo la sua psiche E si vede Quindi quando la sua psiche si indebolisce qualcosa succede Questo tizio è sospetto e già ci stava guardando da dietro nell'immagine Che è successo? Più che altro perché tu cammini? Tra l'altro vorrei vedere il messaggio Ce l'abbiamo veramente Oh no Sapevo che era qua a santo cielo Appena ho visto questa zona sapevo che Ah Ci sarebbe successo qualche evento D'accordo? Cosa mi avrebbe menato Karen che cosa ci nascondi Forse abbastanza se me li spieghi Colpo elettrico Karen comunque è sicuramente potente Utilizza un sacco di elementi psichici Che noi ovviamente ancora non conosciamo Ma soprattutto senza l'utilizzo dei compagni Mi chiedo se anche noi utilizzeremo un giorno Questa abilità senza dover essere in squadra Con qualcuno Quindi dov'è che siamo? Ok Perchè tu sei qua? Perchè tu sei qua? Dovremmo fare botte? Eh esatto Porca miseria ti sfondo Shiden Donna mia Beccati questo Aia che male Shiden Porca miseria Io sapevo che saremmo Arrivati alle mani Credimi Non pensavo in una circostanza simile Però te lo meriti Te lo meriti tutto In questo momento Ti meriti tutto Il mio disprezzo possibile Credimi Occhio Beccati questo Beccati la scala Ti sarebbe piaciuto eh Scemo Donna mia Donna Ti sfondo Non mi sono neanche curato una volta Shiden Maledetto Ritter Sport Sei un cazzone Oh grazie Tranquilli L'ho menato Ecco esatto Certo Ah qui le siete fratelli Non l'avevo capito Ma così subito È già partita La trama della ribellione No Non lo so E noi verremo con te Esatto E tu invece Esatto Perché io mi aspetto Perché io mi aspetto sempre Che lui si è sorpreso Sì madre Avrei voluto avere Chioka però Almeno il suo Sdoppiarmi Era utile Brava Casane Che comunque L'ha L'ha coperto Super Star Raccoon Ed è stata Giunta Perfetto Siamo saliti Di livello Vacci pieno Con me La mia prima volta Che lavoriamo Insieme Casane Ti prego Non andarci Troppo pesante Con me E qual è Il tuo Sass La Iper Velocità Ok Mentre Il suo È il Teletrasporto E abbiamo Preso Dei punti Che Spenderei Anche qui Perché in realtà La cura fuori Dalla lotta Non sarebbe Male Ci vogliono Sei punti Però Sei punti Quindi ce ne manca Uno Più sei Fanno sette Due tre livelli Ancora Allora Sì lo so che avevo detto Che avrei puntato Alla combo Dei Sass Ma a questo punto Visto che comunque Ci vuole un po' Beh Tanto vale curarsi Quindi signori Abbiamo fatto botte Con Shiden E io sono contento Di questo Io vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito Se avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti